Hey, sexy lady! Hey, hey, hey! Non sei normale, eh? Buongiorno La situazione è critica Cioè, non riesco non c'è farla Infatti mi sto mettendo lo spray E niente, ho il matticola La frittoria E c'ho il dietino sulla tutta C'ho il ciclo Quindi, va a posto Oggi Letta che entro nei tenebra Oggi è sabato E non azzecco mai L'interruttore Niente, oggi è sabato E stamattina dobbiamo Fa un po' di giri Dobbiamo andare a prendere I biglietti per la Juve Perché mercoledì andiamo a vedere la Juve E Alice non viene Questa volta Perché è stato troppo stressante Da poi, beh, insomma Troppo pericoloso Troppo... Non mi è piaciuta Come esperienza E poi pomeriggio Scusate ma Ero tutta sfocalizzata Perché non c'era il focus automatico Ma manuale Non focalizzava anche automaticamente Poi pure manuale Comunque niente, il zunto è quello Ora ci prepariamo E andiamo Un po' ho levato l'albero C'è un vuoto C'è un vuoto nel mio cuore Ecco sono pronta Lo sono messa Un bel sfiga outfit Quindi Una bella tuta Le galenji E niente Manco truccata Giusto un po' dei fardi Come si chiama Un po' dei rim E niente Ad Alice gli hanno regalato questo della mini Cioè voi potete capire quanto è buono Infatti io lo metto sempre E quindi niente Lo lasciamo Alice hai finito? Ma che fai via? Ma che te sei impazzita? Dai Che si sta lavando i denti? Io Chi? Dai 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 andiamo Va bene sotto il sole Poi sciacquati Guardate la tavoletta alzata non è il massimo Nel manco Olè Guarda Guarda Ho ho voluto Oh no 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 Che schifezio ehm Basta Ci sono Chi? Vai Il prossimo passo è quello con il conduttore Questa è il coltello per i bambini Ok, ora ti posso Pettinare? No Tu, qui, qui, questa Quella fa male, non l'hai capita ancora Te fa male Ok, da qua Sì, mi consigli di mamma, sono preziosi Sono bella Vai In parte che oggi dobbiamo fare un bagno Super galattico Bella Lo sto ciuffo qua Vabbè, dai, andiamoci a mettere il cappello No Stai in forma, Tico Bella attiva Eh? Vieni qua, ci mettono pure il cacao Stai bella attiva, che meraviglia Oddio Ma, santo Celo Dove l'hai messo? Dove l'hai messo? Ieri che l'hai messo? Ieri sera Prima di andare a dormire L'hai messo qua? Tu stai pure la parola Il nana è nascosto Ma pensavo che oggi è il primo vlog dell'anno Mamma Brutta? Brutta? Hai capito? È il primo vlog, mamma Perchè? Il primo vlog dell'anno Ma che è Halloween? Halloween? Ma è chi? È il carnevale È il carnevale Mamma Noi io ti amo Per i miei torti Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Ma c'è il carnevale però Andiamo dai Ecco Ho pure rimesso Lo zerdino Per levare quelle cose lì Siamo rimasti chiusi fuori casa Bellissimo Questo è l'albero Che dovrò portare da mio padre però Andiamo Lilli Un passaggio? No Vabbè noi entriamo comunque Che ce ne frega Cioè Gerardo è andato a prelevare Ma è tipo Dieci minuti Che sta là Quindi ho tipo paura C'è l'ansia Che dite? Ho davvero? Dieci minuti? Ma è legale Ma con un pensionato Dei 90 anni Bello Il cane Guarda Guarda Bellissimo Oh 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 Mi hai fatto preoccupare Quanto ci sei stato? Perché ci sei stato Stato sto tempo? Un sacco di gente Un sacco di gente? Un sacco di gente Beh effettivamente Abbiamo fatti Tadam Abbiamo fatti Abbiamo pagato Pure di meno De quanto avevamo visto Su internet Abbiamo pagato 20 euro 20 euro Tutte e due Quindi 10 euro Se può fare Dai Ma ma mo Quello vetto No? Sei sciolto? Quello vetto Se sarà sciolto? No No Fammi sentì? No No C'è una fame Vinco io Vinco io Ma che mi spingi? Vinco io Piano Eccola Alì Ma che sei matta? Io Certo Brava Spalmate Sullo zervino Parlami d'amore Mariù Chiara che bei colori C'è la fine che Non ho i ceci E sto a proprio Arrosicchia Ma vabbè Ho messo Pollo Vitelli Melanzane Peperone Zucchini Qua ho messo L'acqua calda E ci metto Paprica dolce Curry E preparato Per couscous Si vuoi giro E metto Allora Couscous Di panorama Però Lo voglio colorare Con Lo zafferano Cioè Nell'acqua Dove lo Lo metto a cuoce Cioè Voglio mettere Un po' di zafferano Vediamo come viene Guardate che bella gialla Ma Praticamente Non ci ho messo Né olio Né niente Ma un po' Per i verdure Ma congelate E cacciano Il Succo E poi Mano a mano Mi sto facendo cuocere Tutto Il proteino Con le spezie Ma che Se ne Ecco qua Il nostro Couscous Però Se non è Meglio freddo Questi saltano Un po' Di più Sapori Amore Andiamo Andiamo a far Il bagnetto Chi Mamma mia Io mi sento male Ma perché Mi sento così male Di secondo te Perché Mamma Perché Stai male Perché mamma Stai male Perché tu Gli eri attaccata Mamma mia Ma tu Gli eri attaccata No No Ma Ma Stai 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 Dopo Il caldo Caldo Mamma mia Stai 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 Un po' Stessa sul divano E niente Ho visto Il nuovo programma Su Sky Di Chiara Maci Vita da food blog C'è Ha fatto L'aperitivo Non vi dico Che cose Carine Infatti Li voglio Rifare Assolutamente Tre aperitivi Gressini Bonbon di caprino Leccalecca di grana Stupendi Devo fare Quindi Sicuramente Vi faccio vedere Quando Quando faccio Ste ricettine E niente Tra un po' Viene Mia suocera Trovo Alice E io Mi butto Tutto sul divano Come sempre È arrivata mia suocera Stiamo compilando Se vediamo E niente Che bello Che bello Sta videocamera L'amo Stiamo compilando I moduli Della scuola nuova Abbiamo deciso Di trasferirla Visto che andava Quella Vicino Alla vecchia casa E quindi Voglio avvicinarla Qua vicino Ma insomma Non la vedo Molta entusiasta Della scuola Non ha Allegato Moltissimo Con il gruppo Class Quindi insomma Abbiamo deciso Di cambiare Lo stormo Sì Io l'ho visto Guarda Hai visto Alice Tutto nero Poi se Se reunisco Le farò Io l'ho visti A cosa Ma no Non appara Sono andata una volta A Roma Da solo Stavano tutte Sti cose Non capivo Che era Sì Si mettono Tutti così Tutti Tutti Carini No Non è male E' riteni C'è una voce Sì Una voce Diversa E vuoi vedere Vuoi vedere così Sì Vuoi fare anche tu La vlog La vuoi fare La vlog Ma di qualcosa Di qualcosa Di che stai facendo E tu qui Bravo O sei mengoni Che fai Fai un botto Della madonna O sei notto Di gli altri Che emma E questo importa Tiè Preparato un po' Di sussitini Brava eh Sono proprio Un'ottima padrona Di casa Io me faccio Un tè Questa è buona Sì lo vuoi? Vuoi un tè? No? No no So pieno No io me faccio Questa è buona Una mia amica Che viene Io non ce la faccio più Questa macchinetta A Gerard Veramente Infatti c'hai L'iPhone Per farmi Eh devo provare Con l'iPhone Davvero E questa qui A noi piace Io la trovo un po' Piccante Quindi Mi prendo Lipton Quello classico Ma che ce ne ho Veramente C'ho Snellente Sì questa Dovre prendere Il finocchio Questo è Camomilla Questo è Ginseng Cappuccino Entro gli strani Ma veramente Queste sono Quelle un po' Più particolari Che Abbiamo preso Al viaggio di nozio Lime Questa è Bella inglese Breakfast Quello normale Tila E che vuol dire Tila Scusate L'ignoranza Vabbè Questo è Quello Early Grey E un altro lime Poi Ah io Early Grey Ancora Importante Fregare le cose Alla colazione Degli hotel Ciao Sono le 18.22 E io Fino a quello che ho fatto Vabbè È venuta mia suocera Ho preso il tè E Poi ho fatto una cosa Che non vi posso dire Perché io ve lo darò Più in là Magari qualche indizio Scusate Il bordello Ma Alice Sta vedendo Minions E quindi Vabbè Guardate qui Vedi tutto questo Sporco Sei normale Ma che fa Comunque tuo padre è pazzo Ti sei fatto male Ti sei fatto male Terenica Ma questi sono matti Poi c'è le due Pazzo Io ne vado Ciao Guarda quella Che lancia le gocce Ciao ragazzi Io vado Ciao Sì sì Ciao Sì sì ciao ciao Mamma No È chiuso Che strozzo Non serve niente Grazie Invece vi serve Ma aspetta com'è che il figlio di No Zitto Invece vi serve chi ve cucina Mamma Ma che fe Alice non si fa È follia questa Voi siete fagli Questa casa è fagli Qua ti domani Aspetta No 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 Non c'è Tu no 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 Se voi ti do una pallina Sono pazzi I cugini O Gerry Non so Adesso dovetto E sto a cercare là Ma questo è fatto tutto De Stato tutto là sopra Volantini Un po' corso È il scompartimento Che io ho già Sì Uno fa così Una cosa Così Tu fai così Io faccio così Tu che c'hai la sindrome Dei ratti Che nascondono tutto Eh guarda Noi abbiamo le cose De prima classe Guarda Mai usate Perché che fai Bruci Le sussi Le lavi No Queste non devono essere usate Non devono essere usate Guarda Nella cucina La cavigliera Vabbè Poi La parla Vai Canta A mamma Tanti auguri A te Quindi è il mio compleanno E andiamo a cena fuori Giusto? E quindi andiamo a cena fuori Perché è il mio compleanno Grazie Alice Ovviamente non è il mio compleanno Purtroppo Ho anche la batteria scarica Quindi Beh Dico cavolo Il frigo è pieno Sì sì è pieno Quindi inventa Dai Alice Dai inventa Però ho preso un pezzo di formaggio Dai Questa è la mia cena Che te mangi Formaggio Come contatini Dove sta il formaggio? Mamma mia Pure l'herdarm Il herdarm Ecco L'ho rinominato Questa è la mia cena Questa è la mia cena Puoi favori? Cioè Io non ho parole Andiamo a cena fuori Qua se morimo oggi Ma andai a cena fuori Che scema Vedi che poi si butta per terra Perché vedete Alice alzate un attimo Non ho mai che è pulito Alice alzate Dov'è un pezzo? Dov'è un pezzo? Dov'è o no? Ho capito che devo fare Aspetta Alice Non è saurita come te Chissà da caribese Alice lo vuoi? Dov'è un pezzettino? Dov'è un pezzettino di formaggio o no? Ma che fai? Non so come diceva Sì boom E lo mangiavo io Bravo Come siete pazzi? Mamma mia C'era c'era te si spacchi Voi siete pazzi? E non li dico Mamma mia Guarda che ti fai male sul Serio? Non riesce a rimanere dritto Oddio 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 E non ripasso dritto eh Già basta Basta Dilemma No non t'ha salto Io poi me lo metto in punta Scendi Dilemma Sei famo una carbonara guarda questo non è un biscotto una carbonara guarda qua guarda qua Gerardo quando vlogga spazia pure quando fanno i video insieme guarda gli santi cose se fanno una carbonara una griscia o un bel bugadino la matriciana bello quando uno si sponne perché mi stai imparata solamente perché si perché lo voglio mettere in soggezione ci sto riuscendo ci sto riuscendo no ma che stai al muretto guarda che belle le nostre galanite adesso quante belle non ho mai viste mamma dai che facciamo è tardi stasera c'è sapore c'è pasta per te io a 9 e mezzo devo mangiare la griscia la griscia è la carbonara la carbonara buca l'uovo ma certo pure un bugadino la matriciana è buona troppo invece la matriciana cioè invece dico la griscia leggera vabbè 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 ma ce penso un attimo e vi farò sapere mi vieni ad aiutare? devo apparecchiare? oh la 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 peppa allora 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 tu 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 hai una mano sola aspetta ecco ecco metti di bene ah e che che è che amore che brava di fa pipì e dai dai finisci dopo a fare pipì corri sì sì ti aspetto accenditi la luce ma lì accendite la luce santo il cielo sotto mettila sotto questa la tovaglietta sotto la forchetta sopra ok e gricia fu un appetito un appetito via di buon appetito montando un video che cercavo delle delle canzoni su youtube e ho aperto la pagina e ho scoperto che siamo 14.001 ed è assurdo e cioè è assurdo io vi ringrazio veramente perché c'è io non non so nessuno veramente ho una vita così umile così non so niente niente in confronto questo enorme mondo di youtube e 14.000 persone che mi seguono che che ci seguono c'è bellissimo una cosa una soddisfazione no e poi non è solo questo perché poi non è solo un numero è voi che mi scrivete che vi confidate che che mi cioè mi dite tutto alle cose le vostre cose più intime no e alla fine io veramente sono un'estranea no quindi prendo da voi tante tante ricchezze tante esperienze è veramente l'avventura più bella più bella della mia vita e non lo so se un giorno smetterò cosa farò però insomma è bello essere ricordata essere insomma non utile aver lasciato qualcosa in voi e quindi io questo numero è grazie a voi perché voi siete voi siete voi siete questo questo numero ma al di là al di là appunto del non è voi siete speciali grazie che matta sei pronta sei pronta per te pronta Gerardo 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 uno due tre ha c'è avanti chi